E ancora emergenza ambientale per la salute pubblica. Difatti, le immagini che state vedendo evidenziano una situazione critica dovuta alla tracimazione di copiose acque fognarie dalla vasca di raccolta. Siamo in zona torrente Melito, in un'area fluviale, questa fortemente degradata per la presenza di una discarica abusiva di rifiuti di diversa tipologia, tra cui lastre di Eternit frantumate. E proprio lì vi si trova la vasca di raccolta delle acque fognarie, dove giungerebbero i liquami della vallata di Bagalà, di San Lorenzo, San Pantaleo, l'acqua prunella. Le acque fognarie tracimano copiose e attraverso un viottolo a cielo aperto percorrono per circa un chilometro l'alveo fluviale per poi giungere sulla spiaggia. È evidente il danno all'ambiente. Tramite la nostra emittente, Ancadic segnala lo stato delle cose alle competenti istituzioni per l'adozione di urgenti provvedimenti concreti e risolutivi a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Grazie a tutti.